come perdere il super bonus del 110% e dover dare indietro allo stato tutti i soldi infatti c'è un piccolo dettaglio che nessuno ha valutato o meglio è stato sottovalutato che definisce che dovrai rimborsare la detrazione se non stai attento agli oneri per la sicurezza lo vedremo oggi in questo video ciao oggi voglio parlarti di un piccolo dettaglio ovvero le norme sulla salute e sicurezza infatti è un aspetto piuttosto sottovalutato da chi ha firmato dei contratti con delle aziende per poter proseguire con il super bonus del 110 per cento allora non voglio fare terrorismo voglio solo mettere i puntini sulle e aiutarti ad escludere ogni eventuale possibilità che un domani lo stato ti chiede indietro i soldi di tutti gli interventi che hai eseguito che ti chieda gli interessi e che ti chieda pure una sanzione infatti l'articolo 4 del dm 41 del 1998 definisce una cosa molto chiara la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza e questo dm viene applicato non solo nella detrazione del 50 per cento o del 65 ma ovviamente anche per il super bonus del 110 per cento la sicurezza infatti viene regolamentata dal decreto legislativo 81 08 e definisce aspetti molto importanti sia per il committente sia per l'azienda che deve eseguire i lavori ecco se tu hai già firmato un contratto per il super bonus del 110 per cento assicurati che tutto sia a posto apro prima però una parentesi qualcuno di voi mi ha chiesto ma perché ti sei sempre focalizzato sulle pompe di calore professionali e non sulle pompe di calore in genere beh ti dico la verità se voglio prendere verdura buona vado dal fruttivendolo se voglio prendere carne buona vado dal macellaio sicuramente non mi accontento del supermercato e questo perché ho bisogno di certezze ho bisogno di garanzie ho bisogno che chi sia dall'altra parte del banco mi dia delle risposte certe perché è ultra preparato e ultra professionale nel suo lavoro questo ovviamente me lo posso aspettare da un'azienda che costruisce magari solo pompe di calore da decine e decine di anni perché se abbiamo dei problemi sicuramente grazie al loro know how grazie alla loro esperienza riusciremo a risolverli ecco quindi ecco il motivo per cui io cerco di lavorare solo con pompe di calore professionali non mi posso accontentare naturalmente dell'azienda generalista quella che ha catalogo anche condizionatori caldaie e via di seguito ecco io vado sempre dallo specialista e come io vado dallo specialista cerco di esserlo anch'io nei confronti di chi vuole passare a una casa 100 per cento elettrica torniamo però all'argomento della sicurezza l'articolo 90 del decreto legislativo dell'8108 definisce quali sono gli obblighi per la sicurezza obblighi che sono in capo a chi sono in capo al committente oppure a una persona delegata ovviamente la delega deve essere ufficiale è una persona delegata dal committente stesso e quali sono questi obblighi beh il primo in assoluto è la notifica preliminare all'ente competente il secondo poi è la raccolta e la trasmissione del durca quindi del documento per la regolarità contributiva delle imprese che fanno parte dell'appalto e poi se necessario la nomina di un coordinatore per la sicurezza questo è obbligatorio se ci sono in cantiere più di un'azienda che lavora anche in momenti separati ecco questo è un aspetto fondamentale immagino che anche te ti sei reso conto della possibilità di riuscire a realizzare il cappotto la pompa di calore l'impianto fotovoltaico ecco ognuna di queste aziende anche se lavora in momenti diversi nel tuo cantiere deve essere coordinata da un responsabile per la sicurezza sono piccoli dettagli che però fanno un'enorme differenza e quindi ti do un consiglio quando ti stai affidando a un professionista a un'azienda per portare avanti il tuo sogno del super bonus del 110 per cento verifica gli aspetti per la sicurezza qualsiasi azienda sia sia un'azienda commerciale che vende solamente prodotti e poi subappalta anche in quel caso sono necessari i documenti per la sicurezza perché perché la posta in gioco è veramente alta c'è il rischio che tra qualche anno tu ti ritrova a rimborsare il credito che hai ricevuto quindi il costo dell'intero intervento comprese le sanzioni e comprese gli interessi poi naturalmente potrai rifarti con un avvocato contro chi non ti ha fatto le carte correttamente però intanto i soldi lo stato li chiede a te quindi sfruttiamo il super bonus ma con gli occhi sempre aperti